allora ho pensato di strutturare questi tre incontri con un filo conduttore quindi come hai anticipato tu ci sarà la possibilità di seguirli individualmente chiaramente a chi interessa il tema la cosa migliore è quello di fare un pochino tutto quello che è il percorso mi hai già presentato quindi non rubo altro tempo insomma mi dedico, mi appassiono al mondo del web da una ventina d'anni e negli ultimi 12-13 ho verticalizzato molto le mie competenze sul mondo degli e-commerce che è l'argomento che oggi porto allora il percorso l'ho riepilogato qui quindi quello che vedremo oggi è un pochino in farinatura generale quindi il fatto che ci troviamo di fronte a un mercato, a un nuovo mercato che è il mercato della vendita online che offre determinate possibilità allo stesso tempo bisogna stare un pochino attenti perché come ogni cosa ci possono essere una serie di criticità che vanno valutate fatta questa diciamo introduzione generale che è quello che facciamo oggi vedremo venerdì prossimo tutta la parte un po' di pianificazione quindi tutto quello che è la strutturazione dell'idea in modo che possa essere poi pianificata e messa giù a terra e finiremo venerdì 27 novembre con tutta la parte un po' di strategie quindi nel momento in cui abbiamo l'idea, abbiamo le idee chiare, abbiamo l'idea, abbiamo la pianificazione come, quali canali, come utilizzarli per poi fare una crescita quindi il percorso di questi tre webinar vi guiderò un attimino attraverso una serie di step quindi avranno anche se vogliamo un ordine logico e cronologico quindi saranno proprio in sequenza delle cose che dobbiamo affrontare per poter pensare di mettere giù un progetto che possa evitare perché possa portare ad avere un certo successo e evitare soprattutto tutta una serie di errori nell'immagine c'è un nostro cliente che abbiamo iniziato a seguire da zero nel 2013 e in verità 4 milioni, l'articolo si riferisce a un paio d'anni fa quest'anno chiuderemo a 7 milioni di euro la previsione era 8 senza se non ci fosse stato lockdown perché il settore della ristorazione è chiaramente stato molto colpito quindi nel caso specifico della vendita dei prodotti che fa questo cliente abbiamo avuto insomma più una perdita un po' di numeri allora questa qui è un estratto di Casaleggio Associati che è un'agenzia che ogni anno mette giù una serie di dati interessanti per comprendere come sta crescendo il mondo degli e-commerce nel 2019 siamo arrivati a 48 miliardi di euro e ha fatto una crescita del 17 per cento quindi come possiamo vedere un po' la progressione dei vari anni la crescita è quasi sempre a doppia cifra quindi è un mercato sicuramente che sta crescendo sempre di più effetto covid prima parte nel senso che chiaramente i dati si riferiscono al primo periodo di lockdown ha portato chiaramente una serie di realtà a beneficiarne quindi tutto quello che era un po' in generale abbiamo tracciato nel mondo del web nel mondo del mobile, dell'internet un 60 per cento di traffico maggiore quindi tutti quanti erano a casa tutti hanno avuto modo di avvicinarsi un po' di più a quello che era il mondo digital molti sono stati obbligati a fare i loro primi acquisti online però quello che abbiamo visto dopo è anche che è una tendenza che non è morta con il periodo di lockdown ma ha creato se vogliamo vedere dei lati positivi sul covid ha sicuramente creato un po' più cultura digitale quindi ha spinto un po' le persone a dover utilizzare un po' di più gli strumenti a capire come si esegue un ordine a capire come si può fare un pagamento online e quindi tutta una serie di settori collegati fondamentalmente all'alimentare all'aredo casa e a molti altri settori hanno subito un forte incremento in termini di vendite alcuni altri settori invece hanno risentito un po' del momento tra cui sicuramente la parte di moda e chiaramente il turismo ha avuto un forte crollo quindi non si può viaggiare per cui quel mondo legato alle vendite e dei viaggi ha avuto un forte calo quindi da un lato abbiamo sicuramente delle grandi opportunità quindi un mercato in crescita sul quale molte aziende stanno investendo molte aziende stanno mettendo giù dei progetti allo stesso tempo dei grandi rischi grandi rischi perché spesso ci si fa prendere un pochino dall'entusiasmo del pensare che l'online sia un po' l'eldorado quindi essendoci un grande mercato basta entrare perché si possa fare vendere facilmente in verità se nel mercato locale il vostro concorrente è quello a 2, 3, 4, 5 km vicino al vostro negozio qui il vostro cliente, il vostro concorrente può essere a 200 km, 500 km oppure dall'altra parte del mondo è comunque vostro concorrente quindi in verità le logiche sono se vogliamo un pochino più complicate il prezzo sicuramente spesso lo fa un po' da padrone quindi va valutata come opportunità ma va pianificata e ragionata cosa serve quindi per arrivare a non buttare via i soldi quindi non fare un ennesimo progetto e-commerce che poi resta lì e non porta i risultati che si sperava innanzitutto bisogna partire dall'idea quindi avere un'idea di mercato un'idea innovativa un'idea di creare quei vantaggi competitivi per cui sappiamo che creeremo che andremo a proporre un prodotto che avrà in qualche maniera dei vantaggi rispetto alla concorrenza rispetto a chi è già presente da diversi anni per fare questo quindi passeremo attraverso un processo di analisi del mercato quindi capire chi è già presente e come chi è già presente con che prodotti quindi fare un minimo di valutazioni su quello che è il mercato che vogliamo andare ad attaccare da lì inizieremo a valutare come sviluppare un piano d'attacco quindi come aggredire quella nicchia di mercato vedremo nei vari incontri anche la parte dei numeri quindi ci sono dei numeri che dobbiamo avere ben chiari del nostro modello di business per capire se siamo più o meno se abbiamo più o meno possibilità di avere successo un minimo di base sugli aspetti tecnici questo corso non sarà tecnico questi tre webinar non saranno tecnici ma saranno un po' più concettuali però un minimo di nozioni tecniche le andremo a vedere e poi quello che abbiamo visto insomma tutte quelle che sono le basi del marketing per capire quali sono i canali che possono esserci utili e come sfruttarli dovete quindi diventare dei mini Einstein del mondo dell'e-commerce dipende nel senso che chiaramente più avete competenze più avete possibilità da un lato di evitare errori da un lato magari anche andare a risparmiare dei soldi quindi se non dovete comprare ogni singola attività potete bilanciare la cosa prima di iniziare a entrare un pochino nel vivo sulla parte e-commerce ci sono tre elementi che spesso vedo un pochino sottovalutati che se vogliamo sono tre elementi di qualsiasi business infatti più avanti vedremo come voglio spostare il focus dall'idea di e-commerce come apro una vetrina in più a come progetto imprenditoriale vero e proprio nel momento in cui si affronta un progetto imprenditoriale che sia un progetto e-commerce o qualsiasi altro tipo di progetto dobbiamo mettere in conto che questo progetto ci richiederà del tempo ci richiederà degli investimenti e ci richiederà delle competenze ora non siamo obbligati ad avere tutti infatti ci possiamo trovare in alcune situazioni di queste qui ci potremmo trovare nella situazione che abbiamo tutto adesso che siamo degli esperti di marketing degli esperti di e-commerce abbiamo tempo e abbiamo soldi vabbè lì vi dico semplicemente che basta che abbiate l'idea giusta e potete lanciarvi ma questa situazione diciamo che tendenzialmente non c'è mai è un po' utopica quello che invece possono esistere come situazioni è magari la situazione in cui voi avete del tempo e del budget a dedicare ma vi mancano le competenze le competenze tendenzialmente insomma sono facilmente acquistabili sul mercato esistono agenzie come la mia e mille altri consulenti che vi possono aiutare se siete in questa condizione il consiglio che vi voglio dare è formatevi nel senso che chiaramente se non avete la base per capire cosa vi stanno proponendo il rischio è quello di scegliere il consulente sbagliato il rischio è quello di fare scegliere la piattaforma fare delle scelte che sono dettate dalla mancanza di competenze quindi sicuramente in questa situazione di avere quel minimo di formazione sul settore aiuta tantissimo per cui questo è un po' il consiglio potreste trovarvi nella situazione in cui invece avete tempo avete le idee e vi manca il budget in questo caso qui una parte delle attività magari potete svolgerle voi direttamente perché avete materialmente il tempo per farlo e se l'idea è interessante tendenzialmente trovare chi ci mette i soldi non è un problema so che nel momento in cui avete l'idea giusta e iniziate a strutturarla la portate a un certo livello poi in qualche maniera chi ci mette i soldi lo troviamo sempre potresti trovarti nella condizione invece in cui tu hai la capacità di investimento hai le idee chiare ma non hai tempo in questo caso è abbastanza semplice quindi si tratta di delegare l'attività e avendo le competenze saprei anche filtrare e trovare le giuste figure potreste averne anche una sola di questi elementi qui potresti avere semplicemente tempo e non avere un euro e non capirne nulla però insomma avendo tanto tempo il consiglio quello che vi do è che di materiale online ce n'è veramente tanto a partire dal mio blog ce ne sono mille e di informazioni ne potete raccogliere tante per cui il consiglio che vi ho è studiate applicatevi e iniziate ad aumentare quelle che sono le vostre conoscente se invece vi trovate nella fase in cui avete budget quindi volete fare principalmente da investitori in progetti perché non avete tempo non avete competenze il rischio è un pochino quello di prima il consiglio è un pochino quello di prima cioè minimo di competenze cercate di averle in modo da capire dove state investendo i vostri soldi però per il resto insomma entrate come come investitori nel settore tra l'altro ho mi ha contattato una persona proprio due tre giorni fa proprio su questo segmento qui nel senso che è una persona che ha voglia di fare degli investimenti su questo settore che ritiene interessanti e valuta delle proposte che gli porteremo nei prossimi giorni nel senso progetti nostri già avviati che magari hanno bisogno di un boost quindi hanno bisogno di un intervento oppure progetti nuovi in fase di start up che magari hanno bisogno semplicemente della parte di budget se invece avete solo l'idea non avete tempo non avete soldi cercate di creare gruppo di creare team quindi di avvicinare persone che possono portare avanti il vostro progetto e darvi supporto questi tre se non hai nessuno dei tre fattori parti dal tempo quindi cerca di liberare tempo cerca poi di acquisire competenze e cerca poi di arrivare ad un investitore che ti aiuti nel progetto questi qui sono tre elementi che secondo me ci ho tenuto a portarli avanti perché troppo spesso mi sono trovato ad affrontare progetti dove l'imprenditore aveva un sacco di entusiasmo ma poi non aveva mai tempo di seguire il progetto perché aveva mille altre cose da seguire persone che avevano un sacco di entusiasmo un sacco di tempo ma non avevano il budget per poter fare il loro progetto quindi bisogna essere un po' realisti e capire quali obiettivi voglio raggiungere e qual è la mia base di partenza capire se la mia base di partenza mi permette di sviluppare questo progetto altrimenti strutturarmi come in primis come persona come disponibilità è sempre fallimentare un e-commerce secondo me avere abbracciare un progetto e-commerce comunque vi porta sempre di vantaggi almeno in termini di competenza nel suo che fare un processo un progetto che magari non raggiunge i risultati sperati vi dà comunque una serie di competenze vi accresce in termini di informazioni che magari il primo progetto non è quello giusto ma vi dà le competenze per fare un secondo step un secondo progetto con le idee più chiare per iniziare ad ottenere maggiori risultati partiamo dalla parte del giusto mindset quindi di avere la mentalità giusta per fare il progetto e-commerce quello che mi succede ancora oggi sempre un po' meno per fortuna ma ancora oggi è che ci sia una semplificazione un'estrema semplificazione di quello che è un progetto e-commerce parto dall'idea vendo formaggio in centro Padova apro l'e-commerce quindi spendo i 5, 10, 20, 30 mila euro di piattaforme in base a come la voglio strutturare sono visibile sul mondo quindi devo solo incassare i soldi e spedire il pacco se poteva funzionare nel 2005 quando la competitività di questo settore era pressoché nulla oggi è abbastanza utopistico avere una visione così ristretta di un progetto e-commerce quando si inizia a parare con il cliente si inizia a farlo ragionare su uno primo step che innanzitutto devi avere una buona idea un'idea mediocre un'idea che esiste già sul mercato entrare in un mercato dove già in 20 fanno propongono il tuo stesso prodotto e sono lì magari da 5 6 10 15 anni quindi hanno una base una base clienti fidelizzata molto ampia diventa un pochino difficile l'altro tassello che iniziamo a introdurre è fare marketing nel senso che se abbiamo il nostro bellissimo negozio ma è una cattedrale sul deserto perché non ha traffico non ha persone che lo conoscono e che accedono non avremo mai possibilità di generare vendite quindi il marketing cosa vuol dire vuol dire aprire dei canali andare a toccare delle persone in target che possono entrare nel nostro negozio e acquistare i nostri prodotti anche questa visione oggi non basta più bastava fino a 5 6 anni fa dove la concorrenza era ancora un pochino limitata poteva essere sufficiente così a oggi anche avere questa visione delle commerce è comunque molto limitata e nel 90% dei casi non porterà il progetto a performare questa inizia ad essere già una visione un pochino più intelligente un pochino più ampia di quello che è il mondo corretto di quello che deve essere un progetto e-commerce corretto quindi parliamo un po' di business model di come pensiamo di generare utili per la nostra azienda quindi studiando il mercato e pianificando la strategia di posizionamento come posso trovare il sistema di essere chiamiamolo unico sul mercato o comunque avere degli elementi per il quale il cliente che vedrà il nostro prodotto il nostro e-commerce inizierà a valutare di acquistare da noi non abbia altri 60 come scelte e che noi non siamo la scelta preferibile per un determinato target di persone solo in quel caso quindi fatto il primo step di valutazione del mio del mio progetto mi sposterò a realizzare l'e-commerce inteso come piattaforma tecnica dove le persone possono mettere il prodotto a carrello e concludere una transazione andrò poi a fare marketing inizierò a ragionare sulla logistica quindi in quanto tempo riesco a spedire come riesco a spedire quanti pacchi riesco a spedire al giorno e inizierò a ragionare sul customer care nel senso che se Amazon che è freddo e non ha la possibilità di parlare con persone comunque offre un'esperienza di acquisto buona noi dobbiamo andare sopra quell'esperienza dobbiamo magari essere più presenti dobbiamo rispondere in chat dobbiamo magari consigliare il cliente fare una telefonata se abbiamo in margine le possibilità in modo da fare l'ultimo step uno sviluppo del cliente il cliente che compra da noi una volta e poi non lo vediamo più mi porta a dover fare margine sulla prima vendita quindi se io vendo un prodotto da 100 euro e ho margine di 15 euro e un cliente mi costa 10 euro io marginerò quei 5 euro lì e basta se invece quel cliente riesco a svilupparlo una percentuale e riesco a farmi fare un acquisto ogni 6 mesi ogni anno ogni mese in base a quello che è il mio modello di business chiaro che le vendite successive andrò a farle a costo quasi zero e quindi riuscirò ad avere sulla seconda vendita molto più margine rispetto alla prima questo concetto qui dei numeri lo vedremo nel dettaglio nel prossimo webinar dove andremo proprio a capire quali sono i numeri principali però diciamo in generale arrivato a fare la prima vendita devo trovare dei sistemi per cercare di vendere ancora a quel cliente si tende a pensare che nel momento in cui io faccio il progetto e dopo sei mesi un anno due anni il progetto non funziona tendenzialmente l'azienda inizia a cambiare agenzie di marketing ne cambia una ne cambia due ne cambia tre e nessuna agenzia riesce a portare risultati poi il cliente inizia a pensare che ha sbagliato piattaforma che non è sufficientemente bello non è sufficientemente veloce non è sufficientemente completo come funzionalità e inizia magari a continuare ad aggiungere spendere soldi senza porsi il dubbio che molto probabilmente il problema non è nelle piattaforme non è nel marketing ma è nel modello di business cioè quello che sto proponendo io nel mercato non ha interesse il cliente arriva vede ma compra dal nostro concorrente compra dal nostro concorrente perché riesce a vendere a meno perché riesce ad avere dei prodotti più interessanti perché riesce ad offrirmi delle garanzie maggiori poi vedremo quali possono essere degli elementi differenzianti però la partita il gioco del successo o meno di un e-commerce non si fa nella piattaforma nel marketing ma si fa nel modello quindi in quello che vedremo in questi tre webinar cioè come arrivare a avere un'idea intelligente non siamo più nel 2005 più il vostro vantaggio competitivo sarà forte maggiori saranno le possibilità di successo del vostro progetto quindi dobbiamo ragionare sul fatto di andare nel mercato dove il cliente possa preferire il mio prodotto per qualche motivo rispetto agli altri che ci sono altrimenti i costi di acquisizione ci uccideranno ve l'ho accennato un po' all'inizio è importante a mio avviso che chi vuole approntare un progetto di vendita online non inizi a vederlo come ho il negozio fisico apro una seconda vetrina che è anche online che è quello che spesso si fa e che non è sbagliato cioè non è che se voi avete un business offline non sia da valutare di affiancare un business online quello che è sbagliato è di vederla come estensione come vetrina in più di quella che è la mia attività e non vederlo come un nuovo progetto imprenditoriale su un mercato diverso perché è un mercato online che magari tratti anche lo stesso identico prodotto ma è un mercato diverso perché tu nell'offline nel tuo negozio fisico hai delle logiche hai delle logiche di concorrenti di vicinanza hai delle logiche di servizio hai delle logiche di capacità magari tua di convincere il cliente a vendere un prodotto che online non hai perché non hai più i limiti di vincolo di vicinanza quindi il tuo concorrente possono essere invece di due nell'arco di 30 km possono essere 100 non hai la tua capacità di vendere e di convincere la persona a comprare il prodotto che secondo te per lui è migliore a meno che non lo metti nel modello di business e crei un e-commerce estremamente consulenziale che può essere una strada ma deve essere base fondante del progetto e quindi devi concepire il negozio online come un nuovo progetto imprenditoriale che avrà bisogno di competenze nuove rispetto a quelle che hai acquisito fino adesso ok quindi partiamo da un concetto volevo farvi un esempio perché ho parlato ho finito una call mezz'ora fa con un cliente che vende che ha una gioielleria a Parma e vende benissimo alcuni prodotti tipo orologi dove il brand è ben identificato il target ha le idee chiare e chiaramente essendo una grossa orologeria riesce anche a essere competitivo sui prezzi quindi la leva è abbastanza semplice ho il prodotto che tu vuoi e riesco a fornirti un buon prezzo in abbinata però ha anche la possibilità di avere delle edizioni limitate che hanno solo loro e su quei prodotti li riescono a marginare di più quindi hanno anche una seconda linea con margini migliori e poi si discuteva sul fatto che la parte di gioiello dove non ha brand che i negozi lo riescono a vendere molto bene perché riescono a consigliare il cliente a farglielo toccare con mano e a guidare il processo di acquisto quindi il cliente arriva con le idee poco chiare e la commessa riesce a trovare la soluzione online tendenzialmente questa cosa è meno marcata tendenzialmente le persone acquisiscono prima le informazioni fuori da quello che è il mio negozio quindi cercano di capire cosa vogliono che tipo di materiale si fanno le idee chiare quando arrivano da noi tendono a a fare l'acquisto quindi su un acquisto su brand la cosa è semplificata su no brand chiaramente diventa un pochino più più complicata fare la vendita la soluzione di responsabilità è un po' legato al discorso di prima nel senso che la responsabilità è dell'imprenditore di formarsi di raccogliere informazioni di avere le idee chiare su quello che vuole fare e sulla responsabilità di avere l'idea vincente di trovare i capitali i budget di fare le giuste scelte e di scegliere le giuste persone quindi non è non è per de-responsabilizzare l'agenzia che poi deve avere i suoi compiti le sue responsabilità ma non possiamo pensare che se un progetto non va come dovrebbe andare è colpa di chi l'ha sviluppato di chi l'ha promosso e non metterci anche noi dentro il processo di valutazione quindi l'agenzia non serve a nulla no l'agenzia può avere diversi ruoli può avere un ruolo in affiancamento in fase iniziale su quella che è la valutazione dell'idea imprenditoriale quindi capire con voi con numeri con dati con informazioni con quelle che sono le informazioni che il consulente ha di fare dei ragionamenti assieme è chiaro che il consulente e chi opera nel settore e-commerce ha le competenze di quello che è il mondo in generale dell'e-commerce voi avete le competenze di quello che è il vostro mercato la vostra nicchia quindi voi sapete chi è il vostro target cosa desidera quali sono i prodotti che vuole il consulente sa come funzionano i processi di acquisto e quali sono le cose che un utente è online le due cose unite portano al successo se le due cose restano slegate tendenzialmente non si va da nessuna parte poi dovete tenere conto sempre che l'agenzia è in qualche maniera molto spesso in conflitto di interesse perché spesso andate a fare la consulenza dall'agenzia che poi dovrebbe vendervi la piattaforma e dall'agenzia che poi dovrebbe vendervi il marketing quindi un'agenzia che vi dica il vostro progetto secondo me non ha senso e si perde tutta una filiera di vendita non è detto che sia così facile trovarla quindi o riuscite a tenere slegate le figure o dovete cercare di parlare alla pari quindi capire se di là c'è qualcuno che vi sta consigliando con numeri alla mano con delle considerazioni intelligenti o se c'è qualcuno che vi dice avete avuto l'idea bellissima fighissima dai che partiamo e così caricano magari ancora di più il vostro entusiasmo che spesso giustamente deve guidare questo progetto ma perde un po' il focus della razionalità di capire perché magari l'idea nell'80% l'idea è positiva ma ha un piccolo la parte che va sistemata che va modificata se non funziona di chi è la colpa a me piace fare un piccolo paragone nel senso che se un imprenditore domani apre un negozio fisico e decide di iniziare a vendere un determinato prodotto e dopo un anno un anno e mezzo il negozio non raggiunge i risultati che si era posto tendenzialmente le persone iniziano a chiedersi forse ho sbagliato zona forse sto sbagliando prodotti forse la commessa che vende non è così brava come penso si fa dei ragionamenti su cosa su quali sono le scelte che sono state sbagliate mentre online si tende un pochino di più a pensare che le cose siano diverse che sia più un problema di target di persone che entra di attività di marketing in verità i concetti sono molto simili se ogni giorno tante persone entrano nel negozio e pochissime comprano il problema molto spesso è da guardare in casa è da capire il catalogo prodotti il prezzo l'assortimento come sto spedendo quindi è da capire se c'è qualcosa di migliorabile in quello che è il modello di business quindi fatto questo preambolo che è secondo me un allineamento su quello che deve essere il mood il ragionamento che dobbiamo avere alla base iniziamo a ragionare su come ottenere l'idea giusta chiaramente non c'è il segreto magico non è che l'idea vincente possa seguire determinati step quello che posso dire io per la mia esperienza è che quasi sempre è un po' un mix di fattori nel senso che spesso c'è il cliente che ha delle esperienze con un target specifico ha magari degli accordi con dei fornitori sui quali riesci a stringere una sinergia quindi riesci a dire ok io spingerò i tuoi prodotti però veniamoci incontro facciamo magari un progetto condiviso può avere delle intuizioni quindi vi faccio un esempio ho un cliente che sta andando molto bene lui aveva un problema con le zanzale in giardino cioè aveva provato diverse soluzioni sul giardino per uccidere le zanzale aveva un giardino molto grande e nessuna di queste soluzioni gli era piaciuto finché a un certo punto a forza di provarne ha trovato dei sistemi che costano circa 1000 1500 euro che funzionavano molto bene da lì aveva era di derivazione informatica lui ha deciso di creare un e-commerce dove verticalizzava e vendeva solo prodotti anti zanzare in aprile di quest'anno abbiamo fatto in un mese 150.000 euro di vendite di prodotti per le zanzare da sistemi più grossi a sistemi più piccolini lui come focus aveva il non volere entrare in concorrenza con la vape con le macchinette piccolette da casa voleva sistemi un pochino più costosi e che fossero un pochino più efficaci quindi in questo caso qui da un'esigenza personale ha notato che nel mercato non c'era un e-commerce così evoluto così specifico in quella nicchia e ha deciso di verticalizzare su quella nicchia oggi come oggi il consiglio che vi do è quello di cercare delle nicchie cioè di non andare con l'e-commerce generico dove ce ne sono mille entriamo in concorrenza con Amazon e diventa tutto molto complesso ma di cercare di capire se ci sono dei piccoli mercati che su base locale non hanno senso ma su base nazionale hanno senso quindi di cercare chiaramente il dimensionamento della mia nicchia di mercato deve essere in funzione anche dei miei obiettivi se voglio fatturare 10 milioni di euro al mese non posso prendere la nicchia di quelli che vogliono le trappole per danzare se voglio fatturare 50-100 mila euro al mese è una nicchia interessante la nicchia può poi anche essere estesa a livello geografico quindi l'e-commerce di nicchia che funziona bene in Italia e mi produce magari 50-100 mila euro al mese invece di estenderlo come numero di prodotti posso dire apro questo mercato alla Francia alla Germania alla Spagna quindi continuo a aumentare il mio potere d'acquisto nei confronti del fornitore quindi continuo a migliorare la mia marginalità apro su più mercati e magari può essere quello un modo interessante di scalare raramente quello di aggiungere categorie e aggiungere prodotti è qualcosa che funziona bene a perché diventa sempre meno controllabile quindi se apriamo a 100 categorie e per ogni categoria abbiamo 5.000 prodotti rischiamo a un certo punto di perdere un pochino il filo di quello che è dove siamo più forti dove siamo più competitivi la nicchia ci permette di essere invece di misurare molto meglio e soprattutto di esaudire dei desideri in maniera migliore posso fare dei filtri all'interno dell'e-commerce molto più dedicati quindi non sono obbligato a fare dei filtri generali ma posso aiutare l'utente nella scelta quindi il primo step è sicuramente un mix di fattori quindi di esperienze di competenze di intuizione che ha l'imprenditore possibilmente entrare in mercati che conoscete molto bene sempre per un discorso di intuizioni di capire cosa vuole riuscite a comprare i brand o creare delle soluzioni che siano vicini a quello che è l'esigenza capire se avete qualche asso nella manica un'esclusiva un prodotto che avete solo voi un prezzo particolarmente forte un servizio di consulenza un pochino diversa quindi di capire se abbiamo qualcosa che ci possa anche porre nel mercato in maniera differenziata e restate ancorati ai numeri quindi non è facile fare marginalità online quindi dovete avere ben chiari quali sono i vostri i vostri limiti di margine e quali sono i punti in cui sotto sopra i quali iniziate a produrre un utile e poi tenete conto che tutta la parte dell'idea è l'inizio se vogliamo e poi va sviluppata in tutte quante quelle che sono i vari step quindi pensa al modello di business pensa alle logiche con i quali creerai valori sul mercato con il quale approvvigionerai il prodotto adesso vedremo un po' di modelli un po' di soluzioni come modello di business cosa intendiamo intendiamo un po' il quadro la visione complessiva tutto quello che porta vantaggio all'azienda da come compro a come vendo a come creo valore sul cliente tutto questo deve avere un obiettivo chiaro che è quello di produrre utile al progetto che andrà online studiate bene il vostro target quindi cercate di capire quali prodotti gli interessano avere una scelta ampia su una nicchia è vincente nel momento in cui parliamo con le nicchie loro hanno molte sfumature quindi avere una scelta verticale su quel settore può essere vincente gli diamo più scelta di una nicchia precisa servizi molto dedicati una cosa interessante magari di lavorare con target specifici è che è più facile intercettarli ho un cliente che vende tutti i prodotti per andare a funghi e tartuffi ci sono eventi fiere riviste dedicate a quel mondo non sono obbligato a fare pubblicità in maniera generica su canali che costano tanto perché puntano un mercato generico ma posso andare a scegliere protestate sistemi e target che mi permettono di spendere meglio i miei soldi perché se spendo 1000 euro di 2000 euro 10.000 euro per comunicare a un target estremamente vicino al mio prodotto avrò delle performance se devo spendere 1000 euro per colpire le persone un po' a caso quindi devo fare la pubblicità su facebook generalista piuttosto che devo fare delle pubblicità molto molto generiche spenderò molti soldi per avere un tasso di conversione un pochino più bassi se il tuo target è tutti hai un problema tendenzialmente quando i clienti arrivano da me mi dicono ma io ho un'idea che possiamo vendere a tutti in verità per me non è una buona notizia ma è una cattiva notizia perché vuol dire che dovrò fare una comunicazione a molto ampia e per magari diminuire quello che è appunto il tasso di conversione quindi se io non so chi è il mio cliente ideale e per trovarlo devo comunicare la cosa a mille persone per trovare quelle due che sono in target chiaramente avrò un dispendio forte in termini economici dovete studiare il vostro catalogo prodotti quindi trattate prodotti che hanno un brand molto noto questo qui è un vantaggio online perché noi andiamo ad intercettare chi cerca proprio quel prodotto quindi saremo molto vicini al suo processo di acquisto chiaro che un cliente che vuole le Nike Air Max modello 2020 giallo oro e verde sa benissimo quali sono i prezzi che il mercato sta proponendo questi prodotti e quindi in quel caso lì il prezzo diventa una leva fondamentale e bisogna stare attenti alla marginalità se invece lavoriamo con prodotti che non hanno brand allora dobbiamo lavorare un pochino sulla credibilità sulla credibilità del negozio in primis quindi dobbiamo essere credibili come comunicazione ma anche sui prodotti magari dobbiamo spostarci un pochino di più sulle caratteristiche tecniche se possiamo dare un anno più di garanzia su quel prodotto diamolo perché in qualche maniera aumentiamo la fiducia del cliente su quel prodotto più un prodotto a garanzia più tendiamo a pensare che sia di qualità e di buona fattezza se hai dei prodotti che invece produci tu direttamente devi lavorare un pochino sul brand perché nel momento in cui il cliente arriverà a valutare il tuo prodotto magari ha altre due o tre marchi in testa estremamente più note e quindi o ti posizioni come alternativa molto economica ma spesso qui vai sempre a erodere la tua parte di margine oppure ti proponi come soluzione più figa per una determinata nicchia di clienti e in quel caso lì devi lavorare un pochino sul brand e fare un minimo di attività di crescita sul brand se invece abbiamo dei prodotti innovativi e quindi le persone non stanno cercando quel prodotto perché non sanno nemmeno la loro esistenza dobbiamo fare un'attività di stimolazione quindi dobbiamo essere noi che andiamo a capire chi è il nostro target ideale e gli proponiamo un prodotto una soluzione che lui non conosce qual è il vantaggio che spesso non abbiamo concorrenti quindi è un po' più difficile perché dobbiamo stimolare e far conoscere il prodotto nel momento in cui però abbiamo intercettato il cliente ideale e gli abbiamo proposto la nostra soluzione sappiamo che sul mercato non trova alternative e quindi diventerà un cliente che è disposto a spendere più soldi e a consigliare il nostro prodotto e lasciarci più marginalità sul prodotto dovete ragionare sulla logistica che è uno step importante dell'e-commerce volete strutturare un magazzino il magazzino potete farlo internamente oppure ci sono delle aziende che ve lo offrono a servizio quindi vi danno la possibilità di pagare un total metro un total picking per il prodotto trattate prodotti particolari infiammabili freschi surgelati tenete in considerazione che ci sono dei packaging che sono molto più costosi rispetto ai packaging normali quindi abbiamo dei limiti che però possono essere dei vantaggi perché magari scoraggiano la concorrenza a fare quel tipo di vendita dove magari noi riusciamo a essere più performanti può essere un elemento per differenziarti quindi se abbiamo se i nostri concorrenti consegnano in 5-6 giorni e noi riusciamo ad essere più bravi a consegnare in un giorno questo può essere un vantaggio non tutti i business oggi stanno consegnando in 24 ore pensiamo a tutto il mondo del personalizzato noi abbiamo un cliente che fa tende su misura se tu vuoi una tenda su misura i loro competitor ci mettono 5-4-5-6 giorni loro in 24 ore ricevono l'ordine ti confezionano la tenda e te la inviano quindi in quel caso lì le 24-48 ore sono un forte elemento differenziante in altri settori dove è sdoganata l'invio delle 24 ore se tu invii in 3 giorni le tue performance calano drasticamente perché il mercato è abituato a comprare oggi e ricevere domani quindi dipende molto dalla tipologia di prodotto esiste il dropshipping quindi il dropshipping cos'è? è quel sistema nel quale io decido di non fare magazzino faccio un accordo con un fornitore o un produttore io faccio la vendita comunico a questo mio partner che ho fatto la vendita e lui farà l'invio per conto mio quali sono i limiti un po' di questa scelta di dropshipping A se un cliente ti ordina quattro prodotti da quattro fornitori diversi devi avere i costi di quattro spedizioni quindi inizia ad essere un po' problematico e la scelta del partner deve essere fatta con cura perché poi spesso il partner non invia non invia a secondi tempi invia ma arrivano problemi e chiaramente il cliente ha come riferimento voi e quindi è qualcosa che può essere un modello di business interessante ma che va ragionato bene con chi vogliamo farlo ragione in relazione al tuo budget quindi inutile fare dei progetti faraonici e poi magari abbiamo un budget di 20 30 40 mila euro compreso il marketing dobbiamo sono andato avanti dietro dobbiamo essere ponderati quindi dobbiamo sapere che se abbiamo budget 10 non possiamo spenderne 9 in piattaforma e poi quando arriviamo al momento di attivare le campagne abbiamo esaurito tutto per fare la piattaforma se abbiamo budget 10 dobbiamo spendere 2 3 in piattaforma 4 al massimo la maggior parte del budget deve essere destinato alle attività di marketing che verranno dopo quindi scegliere la piattaforma in relazione al proprio budget eventualmente possiamo anche si può valutare anche di fare dei prototipi magari di partire con delle soluzioni più economiche per capire il mercato come risponde prima di fare dei secondi step di investimenti un po' più importanti a volte l'investimento può essere un'arma di differenziazione vi porto sempre degli esempi abbiamo seguito un progetto di un e-commerce per un'azienda che fa delle tabelle personalizzate e abbiamo fatto un sistema dove chi entra nell'e-commerce può crearsi in autonomia la scritta i loghi e tutta la grafica in modo da poter da un lato agevolare molto chi deve andare in produzione perché non deve più inviare bozze e farsi approvare la cosa dall'altro lato è vero che è un costo ma è un costo che va a differenziare rispetto ai competitor che non hanno questa possibilità quindi è un investimento che però ci ritorna come elemento di competitività quindi bisogna mettere un po' sul piatto tutto le nostre capacità e quali sono i vantaggi che ogni scelta di natura economica ci porta poi sul nostro modello di business nella scelta del budget cerca di essere realista questa è una vigneta simpatica che gira tra chi sviluppa nel settore web in generale nel settore creativo è chiaro che puoi giocarti sulla leva e budget però magari ci mettiamo d'accordo che te lo consegno con tempi più lunghi piuttosto che lo vuoi domani però in qualche maniera dobbiamo capire o lo voglio super figo o lo voglio identico a Amazon ma ho il budget che non è Amazon quindi dobbiamo cercare un po' di arrivare a un equilibrio di quelle che sono le richieste di risultato di tempistiche e di obiettivo chiaramente più avete le idee chiare più eviterete di navigare nella nebbia quindi più riuscirete a evitare di andare addosso a qualcuno